Tutto è iniziato nel 1947 con un'impresa artigiana di forgiatura metalli in un paesino italiano. Nessuno immaginava fosse l'inizio di una storia lunga tre generazioni fatta di cura del dettaglio, emozioni, valori. Da subito abbiamo guardato più lontano alla ricerca di nuove idee. La Svizzera è stato il primo grande mercato capace di apprezzare prodotti fatti in Italia secondo i rigorosi standard del Vetici. Ciò che ci ha fatto crescere è stata la volontà di fornire ai nostri clienti la soluzione giusta per loro. Dalla semplice fornitura di prodotto abbiamo così scoperto il valore della coprogettazione. Ma il nostro sguardo ha continuato a correre verso il futuro e negli anni 80 abbiamo fatto di accessori per la movimentazione di avvolgibili e veneziane la nostra offerta di eccellenza. È stato un primo passo fondamentale per una nuova generazione, pronta a sfide sempre più ambiziose. Investimenti in ricerca e sviluppo, ingegnerizzazione e produzione, uniti al coinvolgimento di tutta la famiglia nelle attività operative. Con l'avanzare della tecnologia ed il modificarsi di edifici e stili di vita abbiamo ampliato ed evoluto la nostra gamma affiancando motori e automatismi alla movimentazione manuale. L'intero processo produttivo è da sempre sotto i nostri occhi. Accompagniamo il prodotto dalla scelta della materia prima al ciclo produttivo, fino all'assistenza. Anche attraverso filiali aperte, per essere più vicini a chi ci sceglie. Ad aziende ed installatori forniamo oggi soluzioni sempre più articolate e complete, grazie ad un ecosistema di servizi e strumenti digitali per la ricerca e configurazione, installazione e formazione. Evoluzione e crescita sono espressione dei nostri valori, guidate da una visione familiare, forti di un'organizzazione manageriale e condivise da sempre più persone e professionalità. Per continuare ad esservi accanto e accompagnarvi oltre, più lontano.